Bentornati sul canale, oggi siamo qui per la recensione di Transformers Scusate, Hillary Sveglio, un nuovo film di Steven Cable Jr. La trama qual è? Nel 1994 Noah Diaz e Elena Wallace, due giovani di Brooklyn, si ritrovano coinvolti in un antico conflitto attraverso un'avventura in giro per il mondo che si lega a tre fazioni Maximal, i Predacon e i Terracon E ci sarà divertirsi oggi Allora, Steven Cable Jr., regista del recente Creed III Divise il settimo Settimo capitolo, è importante che è il settimo Capitolo della saga che dopo diverse cadute Diciamo il quarto, il quinto Terzo, vabbè, ok, dopo diverse cadute, non andiamo nello specifico Prova, prova, non riesce Prova a proporre qualcosa di nuovo, già dal trailer E qua in alto trovate le due trailer reaction che ho fatto ai trailer dei Transformers Qualcosa di nuovo, abbiamo visto i Maximal, i Terror con nuove fazioni dei Transformers Ok, prova a proporre qualcosa di nuovo Ma non solo fallisce nel tentativo Ma riesce addirittura a riproporre in salsa diversa Le stesse cose proposte in altri film Quali film? 3, 4, 5 Anzi, 2, 3, 4 per essere precisi Partendo dalla trama di base E non più, ovviamente, questa è ancora la parte non spoiler Dopo nella parte con spoiler Entrano nel dettaglio Partendo dalla trama di base E da essa i suoi sviluppi Ovvero, gli uomini che per la prima volta incontrano una macchina Quante volte abbiamo visto nei film? Miliardo Poi abbiamo l'oggetto da recuperare Perché se il cattivo recupera questo oggetto Dopo chiama Recuasa E sono problemi E tutto il solito pacchetto completo Dei film dei Transformers A livello di azione Infiocchettato Con un fiocco, tra virgolette Con un fiocco diverso Ma sempre con lo stesso nodo Per capirci Nel senso che Provano a proporre qualcosa di diverso Con il discorso Soprattutto con il discorso dei Maximal Però dopo alla fine Alla fine della fiera Nello scontro finale Non mi sembra uno spoiler dire Che non finisce i Transformers Nello scontro finale Il risultato è lo stesso medesimo Di altri film Paro, paro Uno dice Miga che figo L'aquila E il rinoceronte E il gheppardo E il gorilla Sì, alla fine Però cos'è che diventano Ok, dai Bravi Anthony Amos Comunque Dominic Fishbeck Credibili Nei rispettivi ruoli Credibili Ed espressivi Che sono due requisiti fondamentali In un film del genere Visto che hai pochi esseri umani E tutte macchine E quindi Devi sicuramente portare L'espressività Dei mimiche facciali importanti Perché ovviamente le macchine Fanno fatica a farle Quindi ecco Bravi Gli unici praticamente Due attori umani Protagonisti In un film Che per me È rimasto Anonimo Per un'ora e quaranta Per un'ora e quaranta Per me È un altro film di Transformers Preso a caso Proprio Non ha Manca di inventiva Manca di originalità Ma soprattutto Manca di Epicità Cioè in questo film Mancava l'epicità Dopo Mezzo Ma che mezz'ora Dopo Un quarto d'ora Io avevo detto Ah vabbè Quindi ok Dopo si prende quello Lo prende il cattivo E il cattivo Porta giù Satana E bisogna impedire Che cattivo Ok Dopo un quarto d'ora Il film dura Due ore e sette Due ore e sette minuti Cioè voglio dire Il film Non ha colpi di scena Ne ha Uno Mi verrebbe da dire Ha Due colpi di scena Mi sono dimenticato Della scena post credit C'è una scena A metà Dei titoli di coda Che ti lascia Sì Proprio E Due colpi di scena Che Uno dici What the fuck Isbio L'altro invece Funziona Nel film Cioè non è un film Nefando Quindi ecco Manca In un'ora e quaranta Nella prima Ore e quaranta Manca freschezza Originalità Stupore Colpi di scena Anche perché Il discorso Che gli unici due colpi di scena Sono Nella restante parte del film Cioè Nei restanti 20 minuti 20 minuti abbondanti Ci sono i due colpi di scena Rimanenti Quindi Nella prima Eo quaranta È un banalissimo Film Che Ma non solo È un banalissimo film Senza Un briciolo Di interesse Senza un briciolo Di ricerca Del prodotto Che Che Prende da altri film Non solo suoi Della saga Colminando però Con gli ultimi 20 minuti Abbondanti Con una scena Con una scena finale Gli ultimi 20 minuti Devo dire che C'è uno scontro finale Bello Interessante Qualche scelta Molto discutibile Ma dopo ne parliamo Nella parte con spoiler Molto discutibile Ma Comunque A ritmo Intrattiene A dei bei effetti speciali Anche se Ve lo dico chiaramente Per me Il commento A dei bei effetti speciali Nella saga Di Transformers Equivale a Zero Perché i bei effetti speciali Nella saga di Transformers C'erano già dal Primo Del 2007 Siamo al 2023 Hanno fatto Sette film di Transformers Con ottimi effetti Speciali E soprattutto Siamo nel 2023 Per me Il discorso Partendo dal presupposto Che chi segue Il mio canale Sa che a me Degli effetti speciali Me ne frega Niente Ma proprio zero In più In fine di Transformers C'è in fine di Transformers Lo fai Partendo dagli effetti speciali C'è Anche perché Il regista Dei primi Transformers Di tutti i Transformers Era Michael Bay Quindi Voglio dire 1,2,3,4,5 Era Michael Bay E i suoi film Si basano su effetti speciali Quindi per me Il commento Ha degli effetti speciali Non è neanche Cioè non aggiunge Niente in più al film Cioè Comunque gli ultimi 20 minuti Hanno ritmo Freschezza Dinamicità Bei momenti Gli ultimi 20 minuti Sono interessanti Culminando Con una scena Mid credit La metà di Tutti di coda Che Mescola Mischia molto Le carte in tavola Facendo un crossover Che cos'è il crossover Per chi non lo sapesse Il crossover è L'unione Di due Prodotti Cinematografici Come Non so Facessero il crossover Tra l'Evocazione E i Sidious Tra la Marvel E la DC Un crossover L'unione Di due Saghe La scena Mid credit C'è un crossover Di due Saghe Tratte da Tratte da Due prodotti Dell'Asbro E qua Dico una cosa E passo subito Alla Alla parte con spoiler Senza aggiungere niente Due crossover Di due prodotti Dell'Asbro Uno Che non ha niente Da dire Non ha più niente Da dire L'altro pure Passiamo alla parte Con spoiler 3 2 1 Scena mid credit Noah Diaz Finalmente Trova un lavoro E il lavoro Che trova Non è quello Che sembra Gli danno Biettino da visita Gli danno Biettino da visita Girandoci scritto G I Joe Quindi Nella scena Mid credit Stephen Cable Jr Fa L'Evocazione Crossover Tra La saga Dei Transformers E I Due Più Un film Hanno fatto Anche quello Del Ninja Nero Snake Eyes Mi pare Si chiami La saga Dei Transformers Dopo Sette film Visto Il risultato Non so Cos'altro Avrebbe da dire Cioè Ne avrebbe Un miliardo Di robe Da dire Visto Quante fazioni Ci sono Dei Transformers Approfondire Di più Il discorso Dei Maximal Dei Terrorcon Dei Predacon Cioè Ne ha di robe Da dire Ma a quanto pare Visto il risultato Non ha più niente Da dire E I G.I. Joe Che credo che Già con tre film Abbiamo raggiunto Il La soglia massima Di interesse Che una saga Di G.I. Joe Possa offrire Visto quante Saghe simili Ci sono Poi sa che Hanno fatto Due film Più uno Però Vabbè Ha fatto questa Unione Vedremo cosa porterà Allora Cominciamo Partiamo dal presupposto Che l'inizio I primi Cinque minuti Di film Ovvero I Maximal Che abbandonano Il loro pianeta Per l'arrivo Di Omicron Omicron E il suo Scagnozzo Scorce Quella scena Lì Solo Quella scena Lì Toglie Tre voti E mezzo Al film Quindi avete già capito A livello di voto Oltre cosa Non va Questo film qua Nonostante L'abbia già abbassato Diverse volte Allora Inizio Pianeta Non Isolita Pianeta Dei Maximal Il Il Gheppardo Il rinoceronte L'aquila Il Gorilla Due Gorilla Basta Basta Non si vede altro In un pianeta Intero Fammi vedere qualcosa Dopo sette Film Che hai fatto Sette film interi Sugli autoboti Decepticon Puoi farmi qualcosa Con i Maximal No Quattro Maximal Cagati Va bene E loro Abbandonano il pianeta Per la minaccia Che incombe La minaccia Che incombe Cosa sono Due scorpioni E scorce Cazzo Minaccione ragazzi Cioè Vi spiego il concetto Per me I primi Cinque minuti Potevano essere Benissimo Ma senza Tanti problemi L'intero film L'intero film Tu mi fai Tutto il film Per la prima volta Finalmente Senza gli autobot Così Fai vedere Che finalmente La saga Qualcosa da dire Oltre al cazzo Di autobot E i minchi Di Decepticon Visto che I Transformers Hanno tantissime Fazioni Non è che ne hanno due Ne hanno un miliardo Di fazioni No Cinque minuti Dove non mi spiegano Niente Mi fanno vedere Che c'hanno Cin Quattro Cinque Maximal Che scappano Da un pianeta Che sarebbe Essere distrutto E che Due scorpioni E un robot Focca di La minacciona Vaccaboya Proprio Lì capisci Proprio La La Cavattarizzazione Che hanno dato Al prodotto Cioè per me Quei film li potesse Benissimo L'intero film Che mi facevi vedere I Maximal Il loro pianeta Minacce nuove Nuovi scontri Perché quello Che ho detto Nella parte Con spoiler Che alla fine Cambi il fiocco Ma non rimano uguali Perché alla fine Bello il ghepardo Bello l'aquila Bello il Il rinoceronte Peccato che alla fine Tutti Giustamente Giustamente Come il cartone Dice Com'è Si fanno La trasformazione Diventano Si è quello Come vado più Del ghepardo Proprio Diventano Praticamente Dei umanoidi A forme umane Quindi alla fine Abbiamo sempre Spari Cannoni Lanciarazzi Abbiamo sempre Stessa roba Alla fine L'unica cosa Che mi è piaciuta Cioè l'unica Originalità È il gorilla Che rimane Gorilla E vedi che Prende Che fa il gorilla Che prende Lo scorpione Lo sgagna Lo spacca a metà Tira i pugni Come gorilla L'unico Tutti gli altri Diventano Come se fossero Dei robot Normali Umanoidi Due braccia Due gambe In posizione retta E cominciano a sparare E che c'è E allora Allora Dov'è l'originalità Se alla fine Si va sempre lì Ripeto Perché qua È fatica Ripeto Sottolineo Ripeto Sottolineo Soprattutto per i fan Dei Transformers So Che diventano così Lo so Però Alla fine Mi hai fatto Io mi aspettavo Il gheppardo Che si lancia Che sgagna Tutti Che fa vedere Qualcosa di figo No Alla fine Scontro Finanze Sempre I cannoni I lanciarazi I fucili a laser Mi aspettavo qualcosa Di diverso Le spalle Cioè Vabbè Quindi Il discorso Qual è Il discorso È che Per me I primi 5 minuti Sono disastrosi Rovinano Tutto il film Rovinano La caratterizzazione Che si poteva dare Molto importante Al film Potevi fare Magari Non fare tutto Fin Metà Potevi farlo Visto per non fare Per la millesima volta L'uomo Che incontra la macchina Oh mio dio C'è una macchina Robò La macchina Vuoi dare da sola Per la millesima volta Far qualcosa di diverso No L'uomo Che incontra la macchina La macchina Che diventa Ehi C'è un umano E dopo Allora Per magari Chi non è super fan Di Transformers Ha visto Fini di Transformers Trama Bisogna prendere Un oggetto L'oggetto è In Parti del pianeta Bisogna Trovarlo Oggetto viene Trovato Lo prende il cattivo Il cattivo Lo utilizza Per mandare Per aprire un portale E chiamare Qualcosa dal cielo Non mi sembra Vagamente La trama del terzo Chiedo Dove veniva Portato Dove Cyberton Stava venendo Portato Su benedetta Terra Chiedo A me personalmente Un pochino Che prendono i pilastri Che li mettono Lì sulla torre E dopo Nella torre Lanciano Oppure La matrice del comando Di Transformers 2 Sì nel 2 Che c'è la matrice del comando Che bisogna prendere la matrice del comando Che dopo c'è Un Transformers morto E grazie a degli impulsi Viene rianimato Nel 2 Era Optimus Parco la matrice del comando Qua è Bubbleby con Il Energon C'è un'originalità in questo film Dov'è Spiegatemela Che l'unica cosa L'unica L'unica cosa Che aveva di originale in questo film La sfrutta Male Ovvero I Maximal Perché dopo I Terra Con i Ville Differenza tra loro E i E i Decepticon C'è Lo so Ma non è così Marcata Come la differenza che c'è tra i Maximal E i Autobot Ok La scena che il Bubbleby muore Tra l'altro Il Pato sta a 0 Giusto? Ok Nel senso che Siamo tutti d'accordo Che quando è morto Bubbleby Tu vieni così e dici Ok Tanto l'ho visto nei 5 film Anche perché Questo film è ambientato nel 94 Questo film è il sequel di Bubbleby Che era ambientato nel 87 Ovvero l'arrivo Nel 87 L'arrivo dei Transformers Sul pianeta Terra Questo è ambientato nel 94 E Comunque I Transformers 1 2 3 4 5 Erano ambientati Nell'anno in cui erano Dove si svolgevano Questo film è ambientato Questo Transformers È ambientato Prima di Transformers 1 2 3 4 5 Quindi Se in Transformers 1 2 3 4 5 So che c'è Bubbleby Nella scena in cui muore Io sono così Non è che mi dispiace Perché so che lo vedo Nei prossimi Non è che c'è patto Su quella scena lì E siamo Tutti d'accordo Su questa scena E Poi Allora Mi è piaciuta Tantissimo Diamo Cese Qualca Dice Mi è piaciuta Tantissimo La ricostruzione Anni 90 Con Con la musica Con Le canzoni Che c'erano sottofondo Con i dialoghi Con le parole Molto Bro Molto Yo Che si usavano Negli anni 90 Soprattutto in America Queste parole Quindi Molto bella Questa cosa qua Una buona Ricostruzione Che Purtroppo Per voler di trama Nella seconda parte Scompaiono O scompariscono Come dicono Con le bravi Perché Si va in Peru Dopo si va in una landa Desolata Dove si combatte Quindi Nella seconda parte L'atmosfera Anni 90 Viene completamente Cancellata Allora Invece Mi è piaciuta Molto Mi è piaciuta La morte Di Aera Zor L'uccello L'aquila Molto Molto Figa Venuta Bene Con Optimus Primer Che fa Qualunque Costo E la stritola E la spaccatuta Che lei era stata colpita Da Scorch Ed era impazzita Male Bella Questa Lì fatta bene Emotivamente Non è che ho Pianto Ma per niente Zero Emozioni Ma comunque Emotivamente Prende Soprattutto i personaggi Sorvolo Sul discorso Pochissima credibilità Che c'è tra Gli umani e le macchine Perché è un problema Che c'è in tutti e sette Film dei Transformers Sorvoliamo Ma Morte Cioè Anche giustamente Allora Mirage Che si scompone Quando è morto E diventa Un'armatura Per Noa Diaz Come on E uno dice Eh ma succede A me va benissimo E nei cinque film Dopo Alla fine Cioè Allora È una roba Che non si è mai visto In un film dei Transformers Ma farmi una roba Su Cioè Tecnologicamente avanzata In un film dei Transformers Cioè mi viene da ridere Mentre lo dico In un film dei Transformers Che è ambientato Prima Di quasi tutti quei altri Mi viene da ridere O sbaglio Cioè Mi fai una roba Tecnologicamente Molto avanzata Perché vedi Una macchina Che si decompone E si E diventa L'armatura Di Noa Diaz Così lui diventa Metà umano E metà Transformers Praticamente Una figata atomica Molto tecnologica E siamo nel 94 E perché in Transformers 1, 2, 3, 4, 5 Non si è vista Sta cosa Visto che è una cosa Tecnologicamente avanzata Point lo manda Ve lo chiede a voi Perché io Sinceramente Non ho risposta A questa cosa Che dopo è una cagata Che dopo Nei cartoni C'era Che dopo non c'era I don't give a fuck Non mi interessa Se c'era Non c'era Me l'hai messa In questo film qua Il fatto che me l'hai messa In questo film qua E negli altri film Non c'era Mi fa un po' starciare il naso Anche perché Sottolineo Che questo film qua Secondo me È È nel posto sbagliato Nel senso che Questo film Secondo me Dovrebbe essere Al posto del quinto Se questo film Fosse stato Transformers 5 E fosse uscito Nel 2017 Non non esagero a dire Che avrebbe un voto Sufficiente Perché questo film Non ha un voto Sufficiente Ma se fosse uscito Nel 2017 Al posto di quel Obrobio Di Transformers L'ultimo Cavaliere Che è un film Orribile Sotto che avendo Tutti i punti di vista E certi effetti speciali Film orribile Se fosse uscito A voto di quello Ovviamente dopo Cambiando l'atmosfera Anni 90 Ma vabbè Stavano in valo Di un film diverso In un altro Devo dire Personalmente Il mio voto È 5 Mi dispiace Perché Io Sono affezionato Alla serie Transformers Io La Ho 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 Una Qua No Non Ho Transformers 1 2 3 4 Il cofanetto Con i 4 film di Transformers Che avevo già fatto vedere Nella trailer reaction Cioè non è che io sto massacrando un film perché voglio massacrarlo A me dispiace perché A parte che se no non sarò neanche andato a vederlo Io non sono andato a vedere Fast & Furious 10 perché non me ne frega niente Questo mi interessava Per me i primi 5 minuti distruggono completamente il film perché quei primi 5 minuti dovevano essere Tutto il film e potevano per la prima volta dal 2007 farmi vedere veramente qualcosa di originale di Transformers Invece alla fine della fiera il discorso cade sempre lì E vedremo se adesso con questo crossover finalmente ci sarà un cambiamento radicale nella saga di Transformers Che francamente sta perdendo tanti 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 pezzi Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo film Se vi è piaciuto se non vi è piaciuto Paggione Facebook, Facebook, Instagram Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace Attivate la campanella di notifiche Ci vediamo alla prossima mutata con il Dalle che è un'autobus tra le uno di lì